un saluto e bentrovati alla voce delle istituzioni oggi siamo in compagnia di paolo vendramini il presidente dell'unione montana belluno ponte grazie per l'invito grazie a lei iniziamo parlando di un tema molto importante per il bellunese per l'unione montana naturalmente il colle del nevegal con il suo tanto declamato rilancio vi occupate di lavori diciamo in nevegal quali sono intanto l'unione montana belluno ponte nelle alpi lo dice già il nome lavora in collaborazione con i due comuni che indicano quali sono le priorità relative al decoro urbano all'assetto idrogeologico agli sfalci ci possono essere delle convenzioni per quanto riguarda il verde e per il ripristino di sentieri o lavori ormai desueti come i muri a secco oppure la riqualificazione di casere quindi i comuni che sono all'interno del consiglio dell'unione montana la delegano per alcune attività in convenzione e i due comuni danno anche dei finanziamenti l'unione montana ha un consiglio che è composto da consiglieri comunali di maggioranza e minoranza che vengono nominati dai rispettivi comuni e poi la legge regionale praticamente obbliga uno dei due sindaci dei comuni appartenenti a fare anche il presidente la giunta è a tre praticamente c'è un presidente un vicepresidente e un assessore che sono fanno parte dei consigli comunali dei rispettivi comuni e poi ci sono alcuni consiglieri che hanno diverse deleghe quindi diciamo è il braccio operativo allora il nevegal diventa importante per i due comuni perché entrambi hanno dei territori che appartengono a questo colle e devo dire che ultimamente ci sono state delle novità importanti abbiamo dedicato molto tempo a far sì che le istanze dei due comuni venissero accolte e quindi concretizzati innanzitutto da circa due anni un impianto come quello di pianlonghi dedicato al giornalista sportivo paolo valenti che ha ristorazione bar e anche attrezzature sportive non aveva più una gestione quindi abbiamo fatto un regolare bando e ha vinto una azienda locale che si veneta 21 che li realizzerà un intervento che permette alle vegali avere un punto di riferimento per l'accoglienza per i turisti ma anche per fare diverse iniziative sia culturali e anche sportive noi crediamo molto in questa struttura in quest'area in questa zona ai tempi nel nevegal veniva in ritiro l'inter ecco non dico che siamo a quei livelli però pian piano avremo squadre di calcio e di pallacanestro ma anche di rugby che sono interessate all'area buona del nevegal alla loro preparazione atletica quindi è una scommessa inoltre vicino sono state recuperate grazie a fondi gal a fondi europei le inaugureremo insieme al rinnovato centro valenti di pianlonghi due spazi si chiamano casere stalliviere sono state completamente ricopperate e riqualificate e lì si potranno esserci convegni ci potranno essere punti informativi e anche ospitalità quindi un impegno dell'unione montana che vede anche il punto informativo sul nevegal è uno degli interventi finalmente i turisti avranno un front office e la possibilità di prendere informazioni turistiche culturali è a servizio anche di tutte le associazioni che ruotano nel nevegal perché sappiamo qual è il patrimonio associazionistico e quanto le associazioni che ruotano intorno al nevegal fanno ecco questo può essere un perno una cerniera importante e poi l'unione montana nel nevegal fa anche gli sfalci dei sentieri il comune di belluno in particolare ci presenta una lista di sentieri che noi con la squadra che è stata organizzata dobbiamo ripulire e mettere a posto a norma affinché siano percorribili e transitabili sappiamo che anche il nevegal ha una parte anche sportiva quindi con le mountain bike anche qui è un particolare tipo di turismo che sta funzionando quindi è in prospettiva soprattutto per quest'estate ci dicono le proiezioni che tanto turismo arriverà dal Veneto verso il nevegal dobbiamo essere pronti abbiamo capacità ci sono potenzialità e abbiamo dato opportunità i due comuni ci sono ma così anche l'unione montana e tutte le associazioni c'era anche ricordo un mi pare si chiamasse parco avventura forse non è di vostra competenza dell'unione montana noi ci siamo occupati del giardino della forestale del giardino botanico della forestale lo abbiamo sistemato anche qui un ottimo lavoro e a disposizione della comunità locale oltre che dei turisti e anche un giardino botanico visitato molto dalle scuole quindi speriamo che il dopo covide ci permetta di riprendere le visite scolastiche con personale che insegna educa i bambini all'ambiente alle piante che abbiamo nel territorio se mi permette vorrei noi abbiamo dovuto riorganizzare il personale dell'unione montana perché due figure storiche sono andate in pensione che il dottor d'aronc e la nostra impiegata che la grazianita taufer hanno fatto 30 anni praticamente in unione montana sono andati recentemente in pensione abbiamo dovuto rimodulare il personale interno anche con nuove assunzioni però da questa sede così importante vorrei ringraziare perché se c'è un'amministrazione che riesce ad avere risultati questo è grazie al personale che ha al suo interno e soprattutto anche i dirigenti abbiamo parlato di collaborazione tra i due comuni voi collaborate anche con associazioni ad esempio se mi viene in mente Belluno Alpina per quanto riguarda la zona di Ronce sì, loro stanno portando avanti dei progetti di ripopolazione dell'area diciamo con iniziative in collaborazione con la regione Veneto sicuramente di qualità noi siamo vicini abbiamo anche sviluppato insieme a loro dei circuiti per mountain bike c'è l'idea dell'albergo diffuso dell'ospitalità diffusa quindi noi siamo pronti a collaborare dobbiamo dire grazie a tutti questi volontari che hanno cura e che hanno amore il Nevegal ma direi che anche in altre realtà del comprensorio dell'Unione Montana Belluno Ponte ci sono volontari associazioni che si occupano penso a Bolzano Bellunese a Tisoi con l'albergo diffuso penso a le tante casere che abbiamo distribuito nelle nostre bellissime aree montane ci sono altri interventi, questo per quanto riguarda il Nevegal ci sono altri interventi però nel territorio bellunese di cui si può parlare leggo ad esempio a Mussoi, qui cosa state facendo al parco? diciamo che qui siamo sul post Vaia il parco di Mussoi è un'area storica ambientale secondo me di grandissimo valore ma lo è anche per i cittadini che vi abitano e quindi con il comune di Belluno abbiamo intrapreso una collaborazione anche con le stesse associazioni che operano in loco e quindi dobbiamo sistemare alcune pertinenze del parco e piantare anche nuovi alberi e dare l'opportunità che quel parco sia vissuto come merita una grande collaborazione devo dire anche con l'istituto comprensivo del territorio con le scuole di Belluno e quindi a noi fa molto piacere perché saranno protagoniste soprattutto i giovani di quel parco anche perché lì se non erro poi si affaccia a Fister sì, sì, veramente una zona, cioè dei percorsi naturalistici davvero molto belli per quanto riguarda invece la zona di Lambioi anche qui state eseguendo dei lavori anche qui è un lavoro di riqualificazione, di sistemazione di un parco, del parco Emilio e devo dire che anche lì la collaborazione con il comune di Belluno è stata fattiva e siamo riusciti a restituirlo alla comunità locale grazie anche alle associazioni di volontariato che hanno messo a disposizione anche dei finanziamenti Per quanto riguarda, leggo alcuni lavori, Malga, Pian dei Fioc immagino che siano lavori più montani le Malga sono un patrimonio, come dicevo prima, del nostro territorio e quindi anche lì interventi per sistemare manutenzioni ordinarie ma anche straordinarie dove occorre per portare l'acqua, per rendere possibile e agibile questo lavoro storico, antico e che noi dobbiamo continuare a mantenere nel nostro territorio perché è la storia ma è anche un valore aggiunto e direi che molti giovani si stanno avvicinando a queste possibilità che la provincia di Belluno offre anche dal punto di vista ambientale Quanto è importante secondo lei l'iniziativa privata per quanto riguarda gli sfalci? Io vado spesso in una zona dell'Alpago, vedo che i prati sono ben tenuti mi piace vedere che il territorio è curato dagli stessi abitanti Diciamo che si vive attraverso normative precise nel senso che i cittadini dovrebbero tenere con grande decoro le pertinenze che soprattutto vivono sul sedime stradale, quindi vicino alle strade quindi il taglio dell'erba, degli alberi, delle siepi Direi che c'è un senso civico generale molto sviluppato e laddove qualche cittadino non lo fa è chiaro che debbono intervenire la Polizia Municipale o la Guardia Forestale per in un primo momento con una defida che è scritta e poi con la multa ma i casi sono pochi, limitati quindi direi che i cittadini dell'Unione Montana si comportano sempre in maniera molto civile Anche perché tenere bene un territorio ha una valenza sì turistica, sì paesaggistica ma è anche un investimento mi viene in mente il disastro portato da Vaia Assolutamente, anche lo schianto delle piante e dover far ordine è un lavoro che stiamo affrontando con dedizione e con le nostre squadre che sono partite dal 4 di maggio devo dire che grazie a una convenzione che abbiamo con il Comune di Belluno il Comune di Belluno ci ha dato la possibilità di tenere in ordine i cimiteri e anche questa è una partita importante per la comunità locale l'ordine, il decoro e abbiamo fatto una convenzione con il Comune di Ponte nelle Alpi per i parchi e alcune pertinenze dei paesi all'interno vedo che le cose stanno andando bene quindi di questo sono soddisfatto Torniamo in città di Belluno per concludere leggo un sistemazione percorso pedonale del Palasport Sì, anche quello è stato cioè Vaia ha creato dei problemi in quell'area quindi l'Unione Montana è intervenuta rimettendo a nuovo il percorso che praticamente dal Palazzetto dello Sport porta in Viale Fantuzzi Per finire le chiedo una domanda di carattere turistico una sua previsione secondo lei saranno spaventati i turisti? No, devo dire che in questo momento un po' particolare dal primo momento in cui ci si è potuto muovere da provincia a provincia il Nevegal ma tutto il territorio bellunese è stato fatto visita di turisti e quindi ripeto dobbiamo essere pronti con tutte le nostre potenzialità siamo comunità di grande accoglienza e voglio dire abbiamo anche le risorse umane e direi anche finanziarie per poter far sì che i turisti della nostra provincia si trovino bene Ringrazio il Presidente dell'Unione Montana Belluno Ponte in Alpi Vendramini grazie a voi per la sua disponibilità noi abbiamo terminato abbiamo sentito tanti lavori nel Calderone ringrazio voi per l'attenzione arrivederci ringrazio voi per l'attenzione